Sono estremamente felice e soddisfatto perché questa mattina si è tenuta la prima riunione del gruppo di progetto C5 ISR, un tavolo che ho concepito su delega del Ministro della Difesa, la dottoressa Elisabetta Trenta, per costruire insieme alle più importanti componenti dello Stato Maggiore della Difesa e delle singole forze armate, un percorso utile all'ottimizzazione dalla razionalizzazione delle competenze e dei flussi di informazione relative all'amministrazione in tutto il dominio cibernetico. Il presidente del gruppo, l'ammiraglio Ruggiero Di Biase, il vicepresidente, il generale Cantiello, il responsabile cyber del mio ufficio, il capitano di Corvetta, Biagio Tampanella, il segretario, il primo maresciallo Gianluca Casaburi, il consigliere del ministro Mirko Lapi, mi aiuteranno a coordinare i lavori che nei prossimi sei mesi grazie al contributo di tutti, porteranno alla redazione di una proposta organica per favorire la riorganizzazione già in atto nel settore cibernetico all'interno della difesa. Il gruppo di progetto dovrà proporre le linee di indirizzo politico volte ad individuare i margini di sviluppo per definire in modo armonico ed omogeneo tutti gli aspetti relativi al dominio cibernetico e più in generale in materia di ICT, Information and Communication Technology, Comando e Controllo e Cyber Security unitamente ai collegamenti e le relazioni con la componente ISR. Tutti i partecipanti hanno avuto modo di illustrare il proprio ruolo all'interno del comparto ed hanno offerto una prima panoramica di come ogni singola forza armata o articolazione della difesa ha finora operato e strutturato la propria organizzazione. Al di là delle differenze è emerso il bisogno e l'intento comune di lavorare al fine di migliorare il modello di gestione e difesa del dominio cibernetico nell'ambito del dicastero della difesa. Sono più che certo che grazie alle elevatissime capacità e competenze già presenti all'interno del comparto difesa questo lavoro risulterà un moltiplicatore del potenziale esprimibile. State certi che vi aggiornerò su tutto il percorso. Ciao e a prestissimo!